Ovviamente mi pare davvero ancora più incosciente andare a elezioni in autunno, abbiamo dossier troppo delicati, dobbiamo come amministratori locali, questo è un sentimento che oltre che mio è davvero credo di quasi tutti i sindaci italiani, in un momento così complicato di messa a terra degli investimenti per circa 200 miliardi di euro che cambieranno la vita dei nostri cittadini e dei nostri cittadini e del Paese, andare a elezioni politiche è davvero da irresponsabili e non è un caso che infatti oggi il Presidente Medejev abbia esultato per quello che sta capitando in Italia. Auspico davvero che vi sia un reincarico al Presidente Draghi, che Draghi possa continuare a traghettare il Paese almeno fino alla scadenza naturale, credo davvero che occorra buon senso da parte delle forze politiche, uscire da tatticismi esasperati che in questo momento rispondono solo a logiche di palazzo, a logiche di potere, a logiche di posizionamento personale e l'ultima delle cose che sembra interessare ai partiti a Roma, nei palazzi romani, è l'interesse delle italiane e degli italiani e questo è davvero inaccettabile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.